Un saluto a tutti i videoascoltatori d'Italia Medievale. Oggi abbiamo il grande piacere di presentarvi un saggio appena pubblicato dall'insegna del Giglio, dal titolo Le monete di Lucca, dal periodo Longobardo al 300, di Monica Baldassarri, alla quale io lascio subito la parola perché sono troppo curioso di ascoltare cosa ci racconta di queste monete di Lucca. Prego professoressa a lei. Bene, la ringrazio, ringrazio Maurizio Cale e l'Associazione Culturale Italia Medievale per questo invito a parlare di questo volume che è uscito veramente, da poco e che ho il piacere di presentarvi oggi perché effettivamente volumi sulle monete medievali, così monografici purtroppo in Italia, sono pubblicati raramente. In parte perché così la numismatica nel nostro paese è spesso avvertita come qualcosa da relegare agli studi collezionistici di tipo antiquario, mentre in realtà la monetazione e la numismatica sono di grande importanza per gli studi storici. In modo particolare le monete sono delle fonti complesse, come tutte le altre ma più delle altre. Se, come dico sempre, noi pensiamo che in poco più di un centimetro di superficie metallica sono condensate moltissime informazioni. La moneta che è stato, diciamo, il primo mass media della storia è anche un mass media multicanale, se così possiamo dire, se mi consentite questa espressione, nel senso che sullo stesso supporto non abbiamo informazioni di tipo epigrafico, ci sono le iscrizioni per chi le poteva e le sapeva leggere. Poi ci sono le immagini, un potente veicolo dal punto di vista iconografico. E poi c'è la materialità della moneta, quella per la quale forse noi la consideriamo di più, il valore dal punto di vista del contenuto metallico, perché a differenza delle monete che noi abbiamo oggi nel passato, le monete avevano un valore intrinseco, erano realizzate in metalli che avevano un valore economico di mercato diverso a seconda del, ovviamente, proprio del metallo con cui erano realizzate il rame, l'argento o l'oro. Poi c'è questa materialità importante nelle monete che è dimensionata grazie al peso, alle proprie misure, che sono tutti elementi importantissimi da considerare quando le studiamo. Quindi, ripeto, la moneta è una fonte complessa che proprio ci conduce appieno nella storia, perché come diceva sempre Laura Breglia, mi piace ricordare le parole di questa grande studiosa di numismatica italiana, la numismatica affonda le radici nell'archeologia e nel mio volume si vede bene, perché poi molte delle mie ricerche si nutrono dei ritrovamenti archeologici, ma ha la testa, la numismatica nella storia, cioè ambisce alla ricostruzione storica a tutto tondo, come appunto molte altre fonti. E quindi non è con solo un supporto di tipo cronologico, o non ci parla solo di economia, ma ci parla della società antica in tutti i sensi, anche quello politico, culturale. E allora, ecco, un libro come questo, sulle monete di Lucca, ambisce in qualche modo, se volete, a studiare la moneta in questo senso, a dare degli strumenti, delle nuove chiavi, anche magari di lettura storica. Perché un libro sulle monete di Lucca? Ecco, magari questa è una cosa che potrebbe interessare. Un libro sulle monete di Lucca, perché Lucca, per chi non la conosce, è stata una delle zecche più antiche della nostra penisola, è anche una delle più longeve. Inizia proprio le sue attività, almeno in modo accettato, nel periodo Longobardo e le conclude solo, ovviamente, quando si esaurisce la storia, diciamo, della Repubblica di Lucca, quindi nel XIX secolo. Molti pensano che magari la zecca più rilevante dell'Italia centrale sia stata Firenze, per la storia che ha avuto. In realtà, se si guarda bene, ecco, Lucca ha una storia ancora più antica e per una buona parte del Medioevo più importante della zecche e delle monete di Firenze. Ma non è solo per la rilevanza della storia della zecche e delle monete di Lucca che mi sono spinta in questo studio, nella scrittura di questo volume, ma anche perché effettivamente, quando mi ero imbattuta in passato nello studio delle monete lucchesi, perché ho già approfondito poi delle ricerche sulle monete di Pisa, da un lato di Genova, dall'altro, Lucca è al centro di quest'area anche geografica, altotirianica. Quando avevo un po' studiato le monete di Lucca, mi ero resa conto che c'erano ancora molti problemi aperti, alcuni nodi non sciolti e quindi mi sono detta, beh, forse è il momento di affrontarli, soprattutto per una realtà politica ed economica così rilevante come è stata Lucca nel Medioevo toscano ed italiano. E questo chiaramente era possibile farlo solo, secondo me, con un lavoro sistematico, proprio di revisione delle fonti, numismatiche, ma anche scritte, archeologiche, e a partire dall'inizio della storia della monetazione lucchese, quindi proprio dal periodo Longobaldo. Ecco perché questo primo volume chiaramente non percorro tutta la storia della produzione della monetazione lucchese, ma mi sono concentrata proprio nel primo periodo produttivo fino allo scorso del Trecento, che è un momento altrettanto importante per Lucca perché è un momento che segna la fine di quella che era stata per un breve periodo la signoria proprio di Pisa sulla città di Lucca e la riacquisizione della libertà con l'inizio di un nuovo periodo, diciamo così, repubblicano. Quindi ho scelto questo lasso cronologico perché mi consentiva poi in realtà di gettare un nuovo sguardo sul medioevo, che poi è uno degli interessi, diciamo così, principali anche del nostro incontro. Quali sono le caratteristiche di questo volume, al di là dell'oggetto generale del suo studio, quali possono essere alcuni magari spunti interessanti se lo vorrete sfogliare? Anzitutto, precisa dire che si tratta di un volume un po' diverso da altri rispetto a quelli che potete trovare o che ho già scritto anche io stessa. È proprio una sorta di pubblicazione del work in progress che ho intrapreso sullo studio di questa monetazione. Quindi troverete molte domande, solo alcune risposte, alcune domande sono ancora aperte anche per me e costituiscono, diciamo, dei percorsi di ricerca. Si tratta di una sorta di tappuino del mio work in progress che ho voluto mettere a disposizione della comunità scientifica e anche di altri possibili appassionati, lettori, utenti, proprio per far capire qual è il percorso che uno studioso di monetazione medievale può intraprendere, quali sono gli strumenti che oggi può avere a disposizione e quali possono essere anche delle novità che possono emergere qualora si vogliano guardare le monete con occhi diversi, proprio anche con un approccio scientifico, storico, solido, perché effettivamente poi diventano delle chiavi per aprire nuove porte dal punto di vista della storia medievale. Quindi, ecco, se lo leggerete, leggetelo con questo spirito, ecco, di trovare un lavoro forse non maturo in tutti i suoi aspetti, non completo, non c'è un catalogo di tutte le varianti, come in genere si fa per altri casi, come ho fatto anche per Pisa, ma trovate invece, magari, e spero, troverete degli spunti di riflessione e di ricerca. Ora, io vorrei appunto sfogliare qualche pagina anche del volume proprio per farvi capire qual è la struttura e anche raccontarvi qualcosa, in qualche aspetto, approfondire qualche annotazione che potrebbe magari interessarvi e quindi condivido il mio schermo in modo che voi possiate magari vedere le pagine del volume. State vedendo? Ti ha un riscontro a Maurizio Cali? Sì. Perfetto. Adesso sì. Ecco, allora, anzitutto, ecco, come vedete, questo volume è stato pubblicato con i tipi dell'Insegna del Giglio e questo proprio con la precisa volontà anche di uscire un po' dal solito circuito degli studi studiosi, degli appassionati di numismatica, non perché questi non siano importanti, anzi spero che apprezzino questo lavoro, ma perché volevamo anche che questo libro circolasse tra gli appassionati di storia e non solo, quindi non solo, diciamo, gli addetti ai lavori o chi conosce già le monete di lucca, ma anche coloro che magari affrontano per la prima volta la lettura, lo studio di questo tipo di fonti, di questo tipo di ricostruzione storica legata alla storia monetaria. Vi dicevo appunto che tra i motivi che mi hanno spinto a realizzare questo volume c'era da un lato una lunga tradizione di studi, soprattutto setto-ottocentesca, ma anche recente per alcuni periodi storici, ma moltissimi nodi ancora da sciogliere. È per questo appunto che ho provato a dare le mie risposte, che ovviamente non sono risposte di nessuno vere e assolute, ma sono delle risposte, se volete, provvisoriche che ho cercato di dare in base a quello che ho potuto raccogliere in questo momento. La struttura del volume, la vedete qui, è abbastanza semplice, è composto da cinque capitoli più delle appendici. Il primo capitolo è proprio dedicato all'illustrazione della tradizione degli studi. E questo perché? Proprio perché quando ci si accinge a effettuare un nuovo lavoro di ricerca, ovviamente la prima cosa da fare è cercare di capire cosa è stato fatto in precedenza, cosa è stato detto, cosa è stato scritto. E quindi mi sembrava giusto che i lettori vedessero qual era il lungo percorso di studi intrapreso dalla ricerca storica e non solo rispetto alla monetazione lucchese e già qui emergessero in questo capitolo alcuni degli aspetti che poi saranno ripresi, approfonditi nei capitoli seguenti. In modo particolare una prima parte del primo capitolo è dedicata agli studi eruditi che per Lucca cominciano dal 600, ma che ovviamente nel 7-800 trovano poi un punto massimo di sviluppo con la realizzazione anche nell'800 delle prime monografie dedicate alla Zecca di Lucca, con tutti i pregi, immaginate i difetti della produzione storica di quel momento. chiaramente molte monete non erano state magari lette correttamente, ma la cosa importante è che già a quel momento si cerca di coniugare lo studio delle monete con la ricerca documentaria negli archivi e questo è un aspetto importante che deve emergere e emerge sempre nello studio della monetazione medievale perché è un rapporto dialettico necessario e vitale quello tra la fonte scritta archivistica e la fonte materiale che in questo caso è la moneta che non può essere trascurata e che invece è ricchissimo per quanto riguarda diciamo così l'input, tutte le informazioni che ci possono essere restituite per quanto riguarda lo studio della monetazione e della società medievale. Il secondo paragrafo invece affronta e presenta un po' la tradizione più recente degli studi sulla monetazione di Lucca e in tutto questo emerge un dato che poi si riflette se volete nella struttura stessa del volume, ovvero che di queste monete di Lucca medievali fino ad oggi sono state studiate soprattutto in parte le monete del periodo Longobardo ma soprattutto in relazione alla produzione monetaria Longobarda in generale del regno cento settentrionale se volete e in parte sono state studiate le monete che coprono il periodo che vanno dalla fine del decimo secolo, quella a nome degli imperatori ottoni, fino alla dodicesimo secolo e questo perché? Perché forse questo è uno dei periodi più rilevanti della produzione monetaria di Lucca quando le monete lucchesi raggiungono anche il massimo ambito di circolazione immaginatevi che quando ci fu la prima crociata i crociati che partirono dai vari porti anche italiani che però erano di moltissime nazionalità diverse portarono in Medio Oriente solo alcune monete e l'unica moneta italiana che è giunta negli stati latini d'Oriente con i crociati è stata la moneta lucchese, il denaro lucchese quindi una moneta che tra undicesimo e dodicesimo secolo ha avuto amplissima circolazione in tutta l'Italia centrale, meridionale che si partiva anche dai porti dell'Italia meridionale fino a tutto il Medio Oriente e quindi questo periodo è stato anche ben studiato anche a livello internazionale invece i periodi successivi, devo dire, sono stati fino a oggi abbastanza penalizzati poco studiati e quindi da qui i capitoli che compongono il volume non hanno un uguale peso e anche neppure una simile scansione dal punto di vista cronologico infatti il secondo capitolo è dedicato, come vedete alle produzioni monetali del periodo Longobardo poi un intero terzo capitolo concentra la presentazione della produzione monetaria di Lucca dal praticamente fino all'ottavo secolo nel periodo carolingio fino al dodicesimo secolo in modo molto concentrato mentre in modo più dispiegato e più analitico nel capitolo quarto e nel capitolo quinto si affronta la ricerca e lo studio della monetazione lucchese rispettivamente nel 200 e nel 300 i ritrovamenti nelle appendici sono esattamente corrispondenti ai periodi che vi ho appena indicato e che sono affrontati nei capitoli quindi se volete una presentazione dei dati di isomogenea ma che è legata proprio alla storia degli studi e anche ai risultati già raggiunti dalle ricerche del periodo precedente per farvi vedere qualcuna di queste monete e raccontarvi quali sono le problematiche ad esse legate ma anche che cosa ci possono narrare vi volevo far appunto vedere anche qualche pagina all'interno del volume come questa ecco ad esempio qui vedete alcune delle monete del periodo Longobardo di Lucca comprese quelle che notate sulla sinistra e già qui ci si può accoggere di uno dei problemi costanti non solo di questo volume ma degli studi sulla monetazione medievale italiana se guardate queste monete non c'è ovviamente una data e non c'è nemmeno scritto il nome ad esempio di un sovrano sulle monete a sinistra vedete da una parte la scritta Luca così con questo simbolismo grafico molto interessante Luca ha scritto innesso non so se riuscite a leggerlo e poi invece sull'altra faccia c'è una croce circondata da una pseudo leggenda con scritto B.V.I. che è stata variamente provata a interpretare ma non c'è alcun elemento di aggancio cronologico ecco uno dei primi problemi quando si studia la monetazione medievale italiana è che spesso è una monetazione di difficile datazione assoluta e questo lo dico perché soprattutto quando si parla di moneta da contesto archeologico anche i colleghi chiedono sempre di quando è la moneta per fare lo strato piuttosto che altro e questo perché? perché ovviamente le monete del periodo precedente a quello medievale soprattutto la monetazione ci immaginiamo no? l'imperiale romana ma anche quelle successive magari dal rinascimento in poi contengono elementi che consentono una esatta collocazione cronologica della moneta per il meglio evo, ripeto, non è così e per Luca non è così quindi in questo volume che cosa troverete? innanzitutto un tentativo di rivedere tutti i dati a nostra disposizione per cercare di collocare anzitutto cronologicamente nel modo più corretto se volete possibile queste monete questo perché? perché e qui cito un altro dei miei maestri che è Cinzo Violante che ci ripeteva che gli occhi della storia sono la cronologia e la geografia cioè per comprendere i fenomeni storici bisogna avere prima ben chiare queste due coordinate solo quando noi abbiamo in qualche modo collocato nel luogo giusto e nel momento giusto queste monete noi riusciamo poi a capire perché hanno certe caratteristiche perché le autorità emittenti hanno voluto rappresentare questo simbolo grafico piuttosto che utilizzare una leggenda e viceversa e anche quale significato possono aver avuto dal punto di vista economico ripeto ma anche politico e sociale quindi queste monete per esempio di Luca sempre col monogramma e con la croce sono originalissime non ci sono altre monete nel regno Longobardo che hanno queste caratteristiche e a lungo hanno rappresentato e rappresentano tuttora una sorta di piccolo rebus per gli storici della moneta pensate che gli eruditi antiquari addirittura le avevano così ipotizzate e collocate qualcuno anche nel periodo goto altri in tempi più recenti proprio perché sono così originali diverse rappresentate con tante varianti di conio diverso cioè vedete no? anche la figura 3 e la figura 4 le due monete si somigliano ma sono diverse tra di loro ecco per questo motivo per esempio Belloni ha ipotizzato addirittura che queste fossero tutte dei falsi ottocenteschi mentre adesso qualche esemplare anche dalla Corsica è stato rinvenuto in tempi recenti sappiamo che non è così ecco queste monete sono molto interessanti perché rappresentano una produzione originale della zecca di lucca di questa zecca di tuscia rispetto a tutto il parorama del regno e collocarle come facciamo oggi tra la fine del settimo e gli inizi dell'ottavo secolo dopo le riforme di Cuniferto della monetazione in altre parti del regno può aiutarci magari a capire perché queste monete sono state fatte in questo modo proprio a lucca in quel momento anche se è chiaro che per l'alto medioevo con delle fonti anche scritte piuttosto rare fatte abbiamo ancora delle difficoltà a spiegare moltissime cose le monete che vedete sulla destra però invece le monete successive sempre di lucca ancora anonime che però sono importanti perché se vedete cosa succede dopo da partire da Stolfo Desiderio addirittura poi Carlo Magno adottarono questo tipo con la stella le cosiddette monete Flavio tremissi stellati di questo tipo non solo per lucca e queste monete quindi le possiamo collocare ecologicamente ma solo queste tre emissioni ma anche per altre monete del regno dell'Italia settentrionale della zona delle zecche della zona transappenninica quindi ripercorrendo un po' la storia delle monete per esempio di lucca nel periodo Longobardo si notano queste originalità che poi diventano magari fonte di ispirazione e anche qui bisogna capire perché dei sovrani Longobardi per le loro ultime emissioni monetali in tutto il regno centosettentrionale nel volume non si affrontano solo questi aspetti cronologici ma anche gli aspetti più comuni se volete quelli circolatori cioè cercare di capire queste monete dove sono state ritrovate che tipo di impiego e di circolazione hanno avuto e quindi troverete delle cartine oltre che un elenco dei ritrovamenti che appunto è un appendice che servono a visualizzare un po' gli ambiti di circolazione di questi mezzi monetari una cosa interessante se vedete per esempio la cartina che vi sto proiettando sullo schermo è il fatto che queste monete longobarde sono state trovate di lucca ovviamente in buona quantità soprattutto come notate in Sardegna e quindi di recente vi ho detto ci sono anche dei ritrovamenti dalla Corsica bisogna capire come ci sono arrivate ma in moltissimi casi si tratta di ritrovamenti da tombe quindi di monete che circolavano probabilmente autonomamente tramite mercanti o chi riusciva ancora a solcare i mari del Tirreno in questo periodo ma che viaggiavano spesso proprio con i longobardi che dai porti della Tuscia verosimilmente dagli approdi di Pila che dovevano essere rimasti attivi e solo successivamente forse anche di Luni potevano prendere il mare per raggiungere queste isole alte tirreniche quindi aspetti anche importanti per la ricostruzione della storia del periodo di Longobardi in cui fino a pochi decenni fa si credeva che magari i Longobardi per mare non ci fossero quasi mai andati e in cui emerge sempre di più invece una loro capacità di utilizzare anche il mare proprio per estendere in qualche modo sulle isole prospiscenti alla Tuscia il loro controllo anche dal punto di vista terriero fondiario e le monete in questo senso danno un loro contributo importante per il periodo successivo troverete ecco un po' l'evoluzione della monetazione di Lucca dal periodo carolingio dicevo fino al XII secolo sulla quale non mi soffermo ora ma vi volevo far notare proprio come queste monete di Lucca per esempio vedete sulla sinistra dal periodo di Enrico III fino a Enrico V rimangono piuttosto simili a se stesse dal punto di vista di quello che c'è scritto c'è questa grande H con scritto imperatore intorno e poi Luca in croce sullo rovescio semplicemente si imbruttiscono se volete dal punto di vista estetico sono ancora sempre più difficili da leggere e quindi questo ha costituito spesso e costituisce tutt'oggi un po' una sfida per chi studia queste monete dal punto di vista economico che cosa ci dice questo che Luca come altri monete medievali a un certo punto immobilizza i propri tipi cioè che cosa fa dice questo è il mio segno io garantisco la mia moneta con questo segno e per fidelizzare se volete il pubblico al proprio logo al proprio segno non cambia mai quello che c'è scritto sulla moneta ed è per questo che le monete di Luca e di molte altre zecche medievali sono ancora più difficili da datare perché c'è sempre scritta la stessa cosa quello che cambia cos'è? è il contenuto metallico tende col tempo Luca come altri zecche a mettere sempre meno argento nelle proprie monete e poi come vedete anche la tecnica di coniazione si fa un po' più veloce più brutale nel denaro che vedete in basso a figura 16 vedete il tondello non è più nemmeno circolare la moneta è fatta a quadratini ci si danno delle martellate sopra per arrotondarlo un po' questi segni che vedete disturbano la lettura del conio e poi ci si imprime la accama la mente e la si mette in circolazione ecco studiare un po' le caratteristiche delle monete in questo senso ci fa capire come stava andando anche l'economia monetaria cioè tra decimo e dodicesimo secolo si vede che per esempio cresce la domanda di moneta i mercati si riattivano diciamo così dopo il mille e la circolazione di moneta la richiesta di moneta è sempre maggiore e l'uso più veloce per cui si cerca di produrre più monete si cerca di produrre più monete sveltendo il processo di produzione e anche questo ecco ha un riflesso come vedete proprio anche materiale sulle monete infine ecco quali sono un po' di novità anche sul 2 e il 300 innanzitutto sul 200 c'è un aspetto importante a cui Luca partecipa non so se avete notato nella slide precedente dal periodo carolingio fino al dodicesimo secolo questa tavola vedete solo monete e lega d'argento con la riforma monetaria introdotta da Carlo Magno anche in Italia inizia il periodo che diciamo di monometallismo argento tutte le monete prodotte in Italia cento settentrionali sono denari o sotto molti di poi molti in lega d'argento e questo rimarrà un dato diciamo così fisso incontrovertibile fino alla metà circa del 200 perché in quel momento cosa succede? Che alcune zecche dell'Italia centrale cominciano invece a produrre le loro prime monete d'oro fino a poco tempo fa il primato di questa produzione era in qualche modo attribuito a Firenze o a Genova nel 1252 semestre prima semestre dopo c'è anche stato un po' di se volete un accapigliamento tra i numismatici e le due diciamo così nazionalità tra virgolette dietro a queste due zecche ma probabilmente Lucca e Genova hanno prodotto una loro moneta d'oro qualche tempo prima poco tempo prima di Firenze e per Lucca la moneta d'oro è quella che vedete nella slide e che è anche riprodotta nel volume che è questo grosso d'oro di Lucca con il volto santo di profilo ecco tra l'altro una cosa importante nel 200 le monete di Lucca tornano a essere iconografiche non hanno più solo delle scritte ma ritorna un'immagine e l'immagine è un'immagine potente importante perché è quella del sacro crucifisso di Lucca che la tradizione vuole che rappresenti il vero volto del Cristo tant'è che quando i lucchesi vedete lo mettono sul loro grosso d'oro lo raffigurano addirittura in una inedita immagine di medioevo di profilo ma perché hanno questa scelta l'ipotesi è che lo facciano un po' se vedete l'immagine bianche e nero sottostante a mo' di contraltare rispetto a quella che era stata la produzione dell'agustale d'oro da parte di Federico II nell'agustale di Federico II lui rappresenta un imperatore vestito diciamo così e raffigurato more romano di profilo rivolto a destra ecco in qualche senso i lucchesi quando producono la loro prima moneta d'oro che era una prerogativa imperiale quindi diciamo fanno una dichiarazione della loro proprio raggiunta autonomia anche politica rispetto all'imperatore ci mettono sopra il volto santo per dire ecco noi abbiamo un'autorità corrispondiamo anche anche superiore a quella dell'imperatore stesso che è la divinità e la raffigurano sempre di profilo di volta a sinistra quasi a costituire un contraltare una sorta di giano bifronte rispetto all'immagine dell'imperatore e quindi nel volume si racconta anche questa storia così come la storia per esempio della moneta d'oro successiva il grosso d'oro che voi vedete qui sulla sinistra in cui al volto santo si associa sul rovescio l'immagine dell'altro santo importante per Luca che è San Martino a cui è intitolata la cattedrale ecco però quando io ho visto questa moneta ho detto sì però questo San Martino è un po' strano se voi notate non è raffigurato nella solita immagine del santo a cavallo che divide il mantello per il povero ma qui è raffigurato un cavaliere crociato con la sua cotta di maglia il suo standard il suo vestillo e il suo scudo con la croce ecco allora questo elemento per esempio nel volume mi ha consentito di cercare di capire il perché quando viene prodotta questa moneta che io lego al 1269 il momento in cui Carlo D'Angiò è nominato podestà di Lucca di Firenze e il capo in qualche modo del movimento Guelfo in Tuscia tant'è che anche nella monetazione dell'Italia meridionale proprio nello stesso periodo in cui appunto anche lì è presente Carlo D'Angiò vedete viene raffigurato un cavaliere anche lì raffigurazione proprio inedita sulla monetazione sui tarì dell'Italia meridionale e quindi ecco elementi di questo tipo sulle monete come vedete vanno oltre gli aspetti economici e ci parlano direttamente invece della politica della cultura di quello che in qualche modo le autorità lucchesi volevano comunicare attraverso le loro monete che poi bisogna vedere come venivano recettite infine per quanto riguarda il 300 troverete anche lì diverse novità legate non solo all'aspetto iconografico ma proprio allo studio delle produzioni monetali per questo periodo devo dire che quello che ho fatto principalmente è cercare di capire se nel periodo che va dalla discesa di Enrico VII in Italia fino a tutto il periodo in cui ha governato Cassuccio Castracani effettivamente non c'era stata quasi produzione monetale come voleva la tradizione di studio in realtà se voi leggerete questo volume vedrete che molte delle monete che venivano attribuite al periodo successivo a Cassuccio Castracani soprattutto al periodo della signoria di Pisa su Lucca che va dal 1342 al 1369 ecco secondo me molti invece sono proprio del periodo di Cassuccio Castracani e qui gli studiosi secondo me sono stati deviati da un aspetto dal fatto che molte delle monete di Lucca in questo periodo hanno un'aquiletta che vedete si posa sopra questa al monogramma che in questo caso era tornato a indicare il nome di Ottone Ottone IV che aveva rinomato dei privilegi alla città agli inizi del docente che da allora era rimasto rappresentato col monogramma sulle monete di Lucca ecco il fatto che ci fosse l'aquila che era un'aquila ghibellina e che era diventata dal 200 uno dei segni principali delle monete di Pisa ha fatto attribuire tutte queste monete alla signoria di Pisa vedrete leggendo il volume che ci sono dei documenti che ci dicono che già invece Castruccio proprio come rappresentante della parte ghibellina in quel momento a Lucca e poi come vicario imperiale utilizzò l'aquila sulle proprie monete e c'è anche un bellissimo documento in cui proprio le autorità di Luca sotto Castruccio fanno dai pisani fanno vedere le tavolette gissate con la raffigurazione di queste monete che viene descritta una cosa rarissima per l'inizio del 300 e ci dicono che c'è l'aquila su queste monete quindi a partire da questi documenti rivedendo la forma delle lettere delle monete dei punzoni qui a uno studio tecnico numismatico ma che è vitale per ristabilire l'etronologia di queste monete ho potuto quindi ricostruire una nuova storia delle missioni lucchesi nel 300 che danno anche più giustizia alla figura di Castruccio Castracani che con la politica militare intrapresa con anche le sue conoscenze dal punto di vista monetario visto che veniva una famiglia di banchieri non era possibile che non avesse emesso che pochi spiccioli come si diceva in precedenza e quindi anche qui le monete sono diventate un elemento importante di revisione di un momento storico quindi io qui concludo perché penso di avervi eh vediato anche abbastanza e soprattutto in realtà vorrei che eh sfogliaste eh questo volume per apprezzarne e capirne un po' gli aspetti di di dettaglio che però ecco non sono mai fini a se stessi ma devono sempre servire per capire meglio questo periodo storico la realtà di Lucca nel medioevo eh come appunto una fonte storica a tutto tondo beh direi molto interessante davvero molto interessante un libro da correre subito ad acquistare perché eh affronta un un argomento che non è così usuale come probabilmente lo erano le monete no perché la moneta è qualcosa che continua nei tempi e giunge fino a noi anche se oggi sono completamente diverse ma rappresenta la quotidianità rappresenta gli scambi i mercati i commerci i traffici e racconta la storia del periodo in cui circola e quindi veramente un libro da da comprare e quindi io ricordo assolutamente il titolo è le monete di Lucca dal periodo Longobardo al 300 pubblicato dall'edizione in segna del Giglio da pochissimo e l'autrice Monica Baldassarri che è stata con noi in questa videopresentazione sarebbe bello riuscire a farmi una in presenza da qualche parte magari anche con proiezioni di immagini perché è molto affascinante le immagini fanno capire anche le enorme difficoltà che incontra lo studioso che vuole ricavare informazioni da materiale così complesso e così complicato che lei ha spiegato in maniera perfetta io quindi la ringrazio veramente tanto per aver accettato il nostro invito e spero di avere occasione per collaborare con lei anche in futuro certamente anche io vi ringrazio davvero speriamo di vedersi in presenza magari quando avete letto il volume e anche di dialogare un po' su quello che vi può aver colpito meno di guardare insieme queste immagini queste monete per poterci immaginare un po' nel medioevo e capire come venivano appunto recepite e usate tutti i giorni anche io quindi vi ringrazio di nuovo e vi saluto spero di rivedervi presto anche noi grazie ancora arrivederci per la ricrezza del parlare d'amore s'accese i fiammi luce e lecchiana che non si sento a parà a darne a prezzare il suo cantatore e poi Grazie a tutti.